eccoci eccoci buongiorno a tutti buongiorno a tutti mentre aspettiamo che entriate all'interno della della diretta io volevo intanto ricordare che per chi si fosse perso alcuni video che abbiamo fatto alcuni alcuni interventi li stiamo diciamo recuperando man mano e li stiamo tutti inserendo assieme dei piccoli articoli per approfondire all'interno del blog di argento attivo quindi trovate tutto ciò che magari vi siete persi lo trovate sempre su www.argentoattivo.com intanto io vi saluto come al solito sono d'Ubel e sono qui con Giorgia e con Marcella eccoci qua oggi parleremo di come conservare il cibo un altro argomento che in questo periodo diventa di particolare importanza lascio la parola a Marcella buongiorno allora oggi parliamo di come conservare gli alimenti cominciamo dal dire che nel momento in cui vado al supermercato devo già iniziare a conservarli quindi se ho acquistato dei sorgelati dei prodotti refrigerati dovrò andare a trasportarli in questo caso nella borsa frigo questo perché devo riuscire a mantenere la catena del freddo e in tutte le stagioni dell'anno oltretutto nel momento in cui le temperature cominciano ad aumentare ancora di più poi cosa importante da fare il supermercato deve essere l'ultimo posto dove vado a fare le commissioni perché molto spesso può accadere che le mie borse cariche di alimenti rimangano in macchina e magari vado ancora a fare un qualcos'altro attenzione perché soprattutto quando le temperature sono alte questo fa sì che di nuovo la catena del freddo si vada a spezzare e che cosa succede? Succede che l'alimento inizia a deteriorarsi prima quindi se noi non riusciamo a mantenere la catena del freddo nel tempo in maniera costante abbiamo delle alterazioni che possono poi provocarci le famose MTA le malattie a trasmissione alimentare quindi mi raccomando prestiamo prima di tutto attenzione a questo. Altre cose che devo fare quando arrivo a casa le borse della spesa sono state magari messe per terra le ho appoggiate sullo zerbino davanti casa per aprire la porta sono comunque stati in luoghi tra virgolette contaminati questo è un discorso che ora sentite fare di continuo perché si parla di coronavirus ma in realtà è un discorso che andava fatto ugualmente anche prima. I materiali non sono sterili quindi la borsa della spesa contaminata non è corretto sistemarla sul tavolo oppure sui piani della cucina e poi andare a spostare le varie derrate in dispensa oppure nel frigorifero perché in questo modo vado a contaminare i piani d'appoggio. È vero qualcuno mi può dire ok però poi dopo il piano d'appoggio viene pulito ma evitiamo proprio questa norma in genere la borsa della spesa possiamo appoggiarla sulla sedia e poi a questo punto possiamo andare a smistare ciò che abbiamo all'interno. Cosa andiamo a collocare prima? Importante ricordare di nuovo sempre il discorso della catena del freddo quindi io prima andrò a collocare tutti quegli alimenti che vanno messi nel freezer oppure nel frigorifero dopo quando ho finito andrò a collocare quegli alimenti che vanno messi in dispensa quindi ho già un ordine di idee che devo andare a seguire. Allora le borse come indicazione che è stata data dall'Istituto Superiore di Sanità andrebbero comunque lavate il più possibile nel discorso che a volte noi utilizziamo la stessa borsa della spesa da chissà quanto tempo non è più una borsa della spesa diciamo sterile è una borsa della spesa dove ci sono dei microarranismi, ci sono dei germi e quindi deve essere pulite in un qualche modo. Nel momento in cui andiamo a sistemare i vari alimenti all'interno o del frigorifero o del freezer oppure della dispensa qual è il metodo che devo seguire? Il metodo è il FIFO, first in first out vuol dire che il primo alimento che entra è il primo alimento che esce ovvero l'alimento con data di scadenza antecedente, quindi prima è il primo alimento che vado a utilizzare per la preparazione del menù questo evita degli scarti, evita che io butti via sia dei soldi perché magari faccio scadere le cose e poi le butto via e sia delle risorse che sono quelle che ci vengono date dagli alimenti che ho acquistato ricordiamo quindi il primo step è quello di fare attenzione a dove appoggio le borse il secondo step è quello di andare a collocare gli alimenti refrigerati e quindi ora vediamo esattamente che cosa andremo a sistemare all'interno del frigorifero mi sono dimenticata una cosa fondamentale che adesso nessuno si dimentica più ovviamente quando torniamo a casa ci dobbiamo lavare accuratamente le mani sistemiamo la spesa, rilaviamo accuratamente le mani il lavaggio delle mani deve essere fatto e ora ce lo siamo messi in testa in passato era una cosa che non riusciva tanto a entrare nell'ordine delle idee allora frigorifero e frizzero ora vediamo dove andare a mettere questi alimenti in genere diciamo che la maggior parte dei frigoriferi sono fatti in questo modo abbiamo partendo dal basso e andando verso l'alto il cassettone dove viene collocata la frutta e la verdura poi il piano sopra il cassettone è quello più freddo dove andiamo a mettere la carne e il pesce mi raccomando adeguatamente separati i piani sopra sono quelli a temperatura intermedia dove andiamo a mettere i latticini, le uova andiamo a mettere tutte quelle preparazioni che prima erano fuori il frigorifero poi le abbiamo aperte e devono essere poi mantenute refrigerate dopo l'apertura la parte diciamo più calda è quella che abbiamo nello sportello nello sportello abbiamo i vari scappalini dove mettiamo in genere il burro e le bibite quest'area è quella più calda dico in genere perché ci sono dei frigoriferi di nuova generazione che possono avere una collocazione degli spazi fatta in maniera differente quindi è importante se abbiamo un frigorifero nuovo andare a leggere il libretto di istruzioni andare a vedere dove sono le aree di refrigerazione e come sono collocate se abbiamo un frigo classico mantenere questa suddivisione mi raccomando gli alimenti devono essere separati soprattutto mi devo ricordare di separare l'alimento crudo dall'alimento cotto il fatto di avere un alimento crudo magari posto in alto che può andare a sgocciolare su un alimento cotto mi crea una contaminazione, la classica contaminazione cruciata e sicuramente mi crea la possibilità di avere poi una di quelle malattie a trasmissione alimentare tante volte a casa ci viene il classico mal di pancia diciamo ma sì ho preso un colpo di freddo no, molto spesso una malattia a trasmissione alimentare dovuta al fatto che gli alimenti non sono stati stoccati alle temperature adeguate o per un qualche motivo sono straccaiche di microorganismi la prima cosa da ricordare è che il frigo va pulito come tutte le altre superfici della cucina se io ho poi un pacchetto ad esempio multipack con all'interno dei pacchetti singoli in questo caso potrei togliere il cartone esterno che è quello che magari è stato a contatto di più con le superfici sporche e mettere semplicemente i pacchettini interni importante però ricordare prima di buttare il pacchetto esterno di controllare se in monopack abbiamo le indicazioni fondamentali quindi la scadenza, gli ingredienti, gli allergeni se abbiamo un allergico in casa perché altrimenti rischia magari di buttare l'involucro e poi di dover sapere magari qual è la scadenza, quali sono gli allergeni e non avere un punto di riferimento sul prodotto ricordiamo sempre non andiamo a inserire troppi alimenti insieme sia nel frigorifero che nel freezer perché questo fa sì che l'aria circoli di meno e ci possono poi essere proprio delle problematiche relative al funzionamento dell'elettrodomestico vi ricordo solo ancora che ci sono delle derratti che non dovrebbero essere conservate nel frigorifero perché deteriorano di più o comunque si rovina il loro gusto pensiamo ad esempio alla frutta esotica non sto a fare tutto l'elenco perché c'è un post che avevamo inserito all'inizio di aprile sul gruppo che parlava proprio delle indicazioni misteriali su come andare a stoccare il frigorifero, gli alimenti e che cosa evitare di inserire all'interno una cosa fondamentale, se ho una preparazione che ho fatto io in casa che ho chiuso in maniera corretta il mio contenitore e che vado a inserire nel frigorifero è buona norma magari di scrivere sopra quando l'ho fatta perché giustamente deve essere consumata il prima possibile ma non fidatevi della memoria ok, altre cose, stavo guardando se mi avevo detto più o meno tutto vedo una domanda Rubenè voglia di leggermi la domanda che io vedo poco oggi nel telefonino la domanda è ma se io ho un prodotto da freezer tipo i piselli che scade dopo qualche giorno se viene congelato vale ancora la scadenza? sì, in realtà se noi non l'abbiamo aperto è rimasto, diciamo, chiuso e più che altro abbiamo la sicurezza che la catena del freddo sia stata mantenuta prima se lo consumo qualche tempo dopo non ci sono grossi problemi se ho dei dubbi su come è stata mantenuta la catena del freddo o eventualmente l'avevo già aperto il discorso non vale più tanto perché se è già stato aperto ovviamente l'ho usato quando l'ho usato l'ho tirato fuori dal freezer magari l'ho lasciato un pochino fuori ci sono tante variabili di cui tenere conto ricordiamo che nel frigo e nel freezer i microrganismi rimangono stabili quelli che ci sono non aumentano però attenzione quelli che ci sono rimangono e quindi se io poi vado a prendere questi alimenti a toglierli nel momento in cui arriviamo a temperatura ambiente abbiamo un momento di latenza in cui i microrganismi non aumentano e poi un momento in cui iniziano ad aumentare in maniera sparenziale quindi in poco tempo cosa succede? il prodotto è completamente contaminato ovviamente dobbiamo già avere una carica di microrganismi presente sopra la parte invece è legata diciamo alle conservazioni che vanno fatte in dispensa quindi tutto ciò che può essere conservato a temperatura ambiente quando parliamo di dispensa diciamo che non siamo più così attenti ma la dispensa deve essere un luogo prima di tutto allontano da fonti di calore da fonti di luce il più pulito possibile perché la polvere o comunque in qualsiasi sporcizza diventa il substrato per i microrganismi e quindi deve essere un'area comunque alla stregua del frigorifero semplicemente con delle temperature di conservazione che sono differenti attenzione sempre a come sono le confezioni una delle cose a cui bisogna sempre fare stare veramente molta molto importanza è il fatto che in cucina non dovremmo avere delle particelle piccole per dire le graffette della pinzatrice magari ho pinzato dei fogli perché avevo delle ricette banalmente la graffetta della pinzatrice non è riuscita a pinzare in maniera adeguata è sul piano di lavoro attenzione perché quelli sono dei contaminanti fisici che potrebbero finire all'interno degli alimenti allora inizio io visto che siamo in termini domande frigo dispensa le uova io te lo chiedo io le uova le dobbiamo mettere in frigo o fuori frigo allora il problema delle uova è legato al cambiamento di temperatura nel senso che se no le uova al supermercato le troviamo fuori frigo quando le portiamo a casa se andate a leggere c'è scritto che è preferibile conservarla all'interno del frigorifero ma perché ciò che fa male alle uova è la condensa che si può creare quindi se io avessi le uova poste all'interno di un frigorifero nel supermercato prendo queste uova le porto a casa durante il tragitto fino al momento in cui ritornano al frigorifero si potrebbe creare una sorta di condensa che può entrare può entrare non è detto che lo faccia all'interno del buscio e quindi può portare i microrganismi all'interno del buscio e di conseguenza è questo sbalzo termico che mi va a creare il pericolo per evitare questo pericolo banalmente le lasciano fuori dal frigo nel supermercato quindi a temperatura ambiente noi ce le prendiamo ce le portiamo a casa a casa andiamo a stoccarle all'interno del frigorifero e poi però anche lì qual è lo sbaglio che possiamo fare vogliamo fare la preparazione con le uova prendiamo tutta la mia vaschetta di uova ce la mettiamo sul tavolo la lasciamo molto di tempo abbiamo creato lo stesso sbaglio quindi prendo le uova che mi servono per la preparazione le altre rimangono stoccate all'interno del frigorifero altra cosa le uova in genere c'è gente che tende a lavarle prima dell'utilizzo attenzione perché se io le lavo e non le utilizzo perché mi dicono vabbè le lavo tutte no? è peggio perché creo comunque una condizione che mi va ad allentare la sicurezza mentre invece dovrai prenderle utilizzarle facendo attenzione semplicemente ai gusci quindi a romperle senza che tra virgolette cadano dei gusci o comunque fare attenzione alle mani che hanno toccato le uova quindi alimento tra virgolette sporco ok vedo ma loro il frigorifero non potrebbe avere non potrebbe avere il guscio non proprio pulito come dire no allora diciamo che se voi li acquistate dalla grossa distribuzione chi le produce su grandi numeri ha proprio già dei macchinari che vanno a scremare i prodotti particolarmente sporchi tra virgolette e quindi quelle che vi trovate in genere sono praticamente tutte pulite se vado a prenderle dal contadino è differente il discorso però sempre un po' un rischio nel senso che in quel caso a volte abbiamo ben presente come ci danno i contadini sappiamo come sono quindi riuscire a pulirle diventa difficoltoso in quel caso il consiglio è sempre se proprio volete cucinatele bene cucinatele bene perché ovviamente con la cottura riusciamo ad avere un minimo di tranquillità in più anche se non totale ovviamente se mi prendo le uova sporche per farmi una salsa con l'uovo crudo il rischio di avere un MTA ce l'ho alto invece è vero che il frigorifero ha quell'area adesso forse non le hanno più tutti dove andavano collocate le uova in realtà non è il massimo è meglio che rimangano in un qualcosa di chiuso e separato anche perché poi quell'area in genere è sullo sportello mentre lo stoccaggio dovrebbe essere fatto più o meno a metà perché sullo sportello è leggermente più caldo quindi lì andrebbe proprio soltanto il burro le bibite le cose che devono essere refrigerate di meno allora tante cose le ho lasciate da parte ma le trovate comunque nell'articoletto c'erano anche proprio delle indicazioni su quanto conservare gli alimenti tipo carne macinata e pesce eviscerato e lavato consumati entro le 24 ore se parliamo di pollo e tacchino entro le 48 ore entro tre giorni nel caso di affettati non confezionati e carne fresca in genere sono indicazioni che abbiamo preso dall'opuscolo ministeriale e poi ovviamente va da sé che dobbiamo fare attenzione a tutte le misure in questo momento ma anche quando finirà questa emergenza grazie grazie mille non abbiamo altre domande sei stata davvero come al solito molto esaustiva molto precisa adesso andremo a guardare tutti la nostra dispensa e controllare quali sono i prodotti che abbiamo messo davanti e quali dietro soprattutto e grazie grazie a tutti anche quelli che hanno seguito di nuovo anche questa diretta come al solito ci vediamo Giorgia quando ci vediamo? ci vediamo lunedì mi raccomando sentitevi liberi se vi fa piacere potete postare le foto delle vostre ricette dei vostri pasti seguendo le indicazioni che Marcella ci ha dato sul meno settimanale ma anche dell'interno del vostro frigo come adesso e come sarà questa sera o domani dopo che l'avrete riorganizzato seguendo le indicazioni di Marcella buona giornata a tutti arrivederci a tutti ciao